e benvenuti a questo terzo appuntamento sulla filosofia di heidegger ci eravamo lasciati nel secondo video sulla tema svolta che secondo alcuni interpreti caratterizza la filosofia di heidegger dagli anni 30 in poi e in ogni caso è una direzione che egli ha deciso di dare non appena aveva capito la impossibilità del linguaggio della metafisica di poter realmente interrogare il senso dell'essere nelle opere successive abbiamo visto un grande sforzo teoretico ma questo sforzo prosegue anche durante gli anni 40 e 50 quando heidegger pubblica interessanti opere dedite principalmente a una ridefinizione del senso dell'essere riflettendo particolarmente sull'importanza dell'opera d'arte sull'importanza del linguaggio come strumenti per poter veramente svelare il senso dell'essere e il modo in cui l'uomo può rapportarsi al linguaggio oltre che alla riflessione sulla tecnica il linguaggio dice heidegger è un po come la casa dell'essere cioè ciò in cui veramente esso può dimorare ciò in cui realmente non solo la nostra parola ma soprattutto la parola poetica quindi del fare poiesis può permettere alla parola di svelare e finalmente strappare all'occultamento tutto quello di cui di solito noi non siamo capaci adeguatamente di saper interiorizzare ma cos'ha l'opera d'arte di diverso assieme alla parola poetica nei confronti del linguaggio ordinario del linguaggio scientifico o del linguaggio giornalistico diciamo che la parola poetica riesce ad accogliere l'essere a far sì che essa sia dotata proprio di una capacità ricettiva nei confronti dell'essere similmente l'opera d'arte non produce soltanto angoscia e spaisamento come ci aveva detto heidegger in essere e tempo essa è un urto essa produce una scossa un trauma liberatorio nei nostri riguardi che permetterà a ciascuno di noi di osservare le cose in maniera diversa con occhi diversi che non sono quelli comuni che non sono quelli abituali e per questo motivo che tra un po voglio mostrarvi questo importante quadro di van gogh di cui heidegger ci offre un'interessante analisi nel quadro di van gogh non potremo mai stabilire dove si trovano quelle scarpe intorno a quel paio di scarpe da contadino non c'è nulla di cui potrebbero far parte c'è solo uno spazio indeterminato grumi di terra dei solchio dei viottoli non vi sono appiccati denunciandone almeno l'impiego il cuoio è impregnato dell'umido e dal turgore del terreno sotto le suole trascorre la solitudine del sentiero campestre nella sera che cala per le scarpe passa il silenzioso richiamo della terra il suo tacito dono di messe mature e il suo scuro rifiuto dell'abbandono invernale dalle scarpe promana il silenzioso timore per la sicurezza del pane la tacita gioia della sopravvivenza al bisogno il tremore all'annuncio della nascita l'angoscia della prossimità della morte analizzare questo quadro ci permette di cogliere un mondo di tantissimi rimandi solo in qualcosa di molto semplice apparentemente semplice come un paio di scarpe da contadina eppure l'uomo ha gradualmente perso smarrito questo sguardo incantato rispetto a oggetti così semplici l'arte ci aiuta quindi a riscoprire un senso dell'essere che il vuoto del nichilismo o la pretesa della volontà di potenza e successivamente anche il mondo sempre più reso omogeneo dalla tecnica sembrava aver totalmente ingoiato in quali modi heidegger riesce a saldare questo ripensamento sulla importanza della poesis e della tecne con quello che è la tecnica nel mondo moderno a partire dalla rivoluzione scientifica dalla rivoluzione industriale sino all'era atomica nell'importante conferenza che lui terrà nei mila 953 a monaco lui rivendica alla poesia la capacità di essere poi esiste cioè di produrre di trasformare la nostra capacità di osservare il mondo e questa stessa capacità di essere poi esiste lui la assegna anche alla tecnica o meglio a quella che i greci chiamavano tecne dal momento che tecne significa saper trasformare saper dirigere qualcosa verso i nostri bisogni verso il soddisfacimento di alcune esigenze che permetteranno all'uomo di poter accogliere alcune importanti doni della natura ma la tecnica come poi ci ha anche insegnato il mito di prometeo ha preferito sempre più a domesticare la natura a soggettarla e per questo motivo dice heidegger che la tecnica è spesso onnivora spesso ci sembra il contrario della metafisica ma in molte opere heidegger rivendica che la tecnica non è altro che la metafisica incarnata in una volontà di potenza con cui l'uomo pretende di dominare e di dirigere la natura a suo uso e consumo per poter capire come mai la tecnica moderna ha sempre più smarrito il senso del ricevere dell'accogliere i doni della natura senza prevalere su di essi dobbiamo cercare di interrogarci su un termine tedesco molto interessante il termine gestel che vuol dire in posizione ma il cui verbo indica anche l'impiegare e non a caso perché dice heidegger che in molti casi la tecnica moderna si è posta il problema di come poter controllare i nostri bisogni e controllare la natura per far sì che essa potesse corrispondere a secondare proprio il soddisfacimento dei nostri bisogni di controllo sulla sua forza anche per questo motivo quando heidegger scrive queste riflessioni l'intelligenza artificiale ancora gli albori e tuttora noi abbiamo una visione piuttosto ambigua di essa tant'è vero che ci sono anche alcuni teorici che non sono d'accordo nell'utilizzo di questo termine eppure gli aveva intuito qualcosa secondo me molto interessante e attuale anche oggi se noi pensiamo di poter delegare alla tecnica il controllo sulle nostre vite e il controllo sulla qualità della nostra vita forse ci illudiamo di poter esorcizzare le nostre paure le nostre fragilità pensando quindi che la macchina o la tecnologia in generale possono renderci più indipendenti da quello che sono le nostre fragilità ma forse col tempo ci accorgiamo che questa è sempre più un'utopia dovremmo comunque allontanarci dal pregiudizio secondo il quale heidegger avrebbe esaltato i pericoli della tecnica lui spesso dice che dovremmo percorrere ancora più a fondo la via della tecnica per capirne la sua essenza nichilistica e capire che comunque dove crescono i pericoli dove cresce la minaccia cresce anche ciò che salva per questo è tutto ci vediamo al prossimo video ciao